Nell'ambito delle iniziative volte a promuovere l'immagine della Polizia di Stato e da sostenere progetti di solidarietà, la CONSAP ha promosso a Siderno la prima edizione di Un Sorriso Condiviso. L'iniziativa, patrocinata tra gli altri dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, ha le sue origini dalla collaborazione intrapresa tra il sindacato e il gruppo Cabareggio in Schiacciando si impara, concorso teatrale che tanto successo ha ottenuto a marzo del 2008. Il gruppo, con la messa in scena di alcuni schiacci inediti, ha regalato dei momenti di sano divertimento a tutti gli intervenuti ed in tale contesto che spontaneamente è nata l'idea di portare il sorriso di quella magica serata regina a chi sfortunatamente non ha avuto la possibilità di viverla per i tant'ostacoli che la vita interpone. Quindi si è allestito uno spettacolo costituito dalla messa in scena di alcuni sketch comici intervallati da pezzi musicali da portare in scena direttamente in tutti quei luoghi, in questo caso la Casa di Riposo Sant'Antonio di Siderno, ma anche in ospedali orfanotropi, dove vi sono persone che stanno vivendo un momento di difficoltà e che forse da troppo tempo non conoscono il piacere di una sana risata. Il progetto sta trovando l'adesione e il sostegno di tutti coloro che con il loro contributo credono nell'iniziativa la quale, nella sua semplicità, va proprio al cuore del problema regalare ossia un sorriso promuovendo la terapia del buon umore la cui importanza è sempre più sostenuta dal punto di vista medico. Nei progetti della CONSAP collaborano un gruppo unico nel suo genere per il meridione che propone musica celtica con costumi originali dell'epoca, un gruppo di musica tradizionale popolare composto da almeno sei coppie che allietano con balli e canti originali della tradizione calabrese oltre ai cabareggio che esprimono un cabaret di ispirazione locale che coinvolge per la sua interpretazione della quotidianità e dei nostri luoghi. Si è aggiunto di recente una giovane promessa imitatrice che certamente solcherà palcoscenici nazionali. Infine Ninos Entertainment farà da filo conduttore in tutti gli eventi con la sfumeggiante presentazione ed interpretazione di successi canori. Nell'occasione a Siderno al Sant'Antonio il segretario generale provinciale della CONSAP Carlo Figliomeni riconosce l'alta sensibilità del sindaco ingegnere Alessandro Figliomeni il quale appena venuto a conoscenza di questa iniziativa l'ha fortemente voluta per la casa di riposo Sant'Antonio di Siderno. Oggi siamo qua a offrire uno spettacolo, un momento ricreativo a questi ospiti della casa di riposo di Sant'Antonio di Siderno, nel lungomare di Siderno. Questa manifestazione è voluta e organizzata dal sindaco di polizia CONSAP Alla domani M Affiliate La Bellino La bellino La bell'usion